5,4,3,2,1 abbiamo 30 sinistra 3 tieni e destra 4,70 accenno destro e accenno sinistro destra 4 in accenno sinistro, in accenno destro lungo diventa 4, chiude a fine ringhiera bianca 50 e l'ho tirata qua, sinistra 2 gira ok dai e destra 3 diventa 50 destri in destra 4 lunga lunga tieni in sinistra 3 diventa 4 lunga tieni in sinistra 4 in destra 4 chiude tieni in sinistra 3 tieni in destra 4 tieni in sinistra 3 gira tieni 50 sinistra 2 e destra 4 lunga tieni 50 destra 5 lunga diventa 4 in accenno sinistro e destra 4 tieni in sinistra 3 chiude taglia 100 che pass dai destra 3 andiamo a superare il muro te la senti? 50 allora tira fuori i coglioni dai con testa e non lungo vai di sotto a sto cazzo di muro destra 3 chiude e torniamo di nuovo sotto 30 dai tacalo tacalo destra 3 in sinistra 4 lunga lunga che sale tieni occhio interno e destra 3 tieni in tunnel in sinistra 3 20 destra 3 in sinistra 5 lunga diventa 3 gira il muro 50 sinistra 5 in destra 4 20 destra 3 gira chiude in accenno sinistro e destra 4 tieni occhio interno in sinistra 4 taglia 50 sinistra 5 lunga lunga e molta attenzione dosso subito sinistra 3 gira su pavè 70 70 sinistri destra 3 gira chiude in sinistra 3 50 destri in sinistra 3 e sinistra 5 in destra 4 lunga diventa tornante destro 50 sinistra 3 sinistra 3 e destra 5 30 accenno destro 50 e accenno destro il tornante sinistro che sale non leva taglia 100 100 destra 5 lunga diventa tornante destro il sasso ricordati quando lo vedi eh si dai 50 50 tornante sinistro che sale 30 destra 5 lunga diventa 3 tieni e taglia 100 molto attenzione molto attenzione sinistra 5 lunga sudosso e attenzione frena il plinto sinistra 3 chiude stretto su pavè diventa 4 lunga tieni sale e andiamo gli sotto in questo destra 2 in sinistra 4 e taglia 50 in destra 2 in sinistra 3 20 destra 4 vai 70 ricordo che prima l'hai fatto pieno dai destra 3 diventa 4 lunga 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 tieni in sinistra 5 tieni in destra 4 in sinistra 4 in sinistra 4 diventa 3 gira lunga tieni in destra 2 doppia 30 destra 4 50 accenno destra in sinistra 3 chiude e gira 20 sinistri intornante sinistro leva stretto oh 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 vai in destra 3 lunga chiude 50 e al rovescio tornante destro chiude stretto leva devi crederci devi crederci 50 destri vai 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 in sinistra 5 30 tornante sinistra leva Vai, va bene Oh, vai Torna 100 destro, 30 Tornante destro, leva Vai, 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 vai No, non passo Come no? Sì che passi, sì che passi Passi, Clau Fidati di me, dai di sotto e vai Dai di sotto e vai Cazzo 50 Sinistra 4 lunga Diventa Tornante sinistra, leva Oh, vai Vedi che se ci credi le fai le cose In destra 3 diventa 5 lunga Ridiventa 3 In sinistra 5 lunga, lunga Tornante destro, leva Dai, per il massimo ho perso il culo Chi se ne frega Dai Lascia andare Lascia andare Via 50 Tornante sinistra, occhio interno No, basta, sono finiti Occhio interno No, leva E via Via Andiamoci a volte Ok Accendo sinistra Taglia 100 Sinistra 4 lunga Tieni 30 Tornante sinistra Non leva Non leva Non leva 30 Vai Dai Sinistra 4 In destra 5 Diventa 3 E taglia 80 Non largo Sinistra 5 Tieni E molta attenzione Destra 4 Tieni su dosso Subito sinistra 3 Chiude in destra 3 Grazie Grazie Grazie.